Si apre la campagna elettorale per le elezioni regionali, si vota il 12 e il 13 febbraio prossimi, ma il quadro è ormai quasi chiaro. Nel centrodestra Massimo Sertori, assessore uscente alla montagna e denti locali, ha deciso di ricandidarsi per la Lega. Una scelta che giunge dopo cinque anni intensi al fianco del presidente Fontana, spiega Sertori all'interno di una squadra che ha dovuto affrontare la pandemia, la crisi economica e la carenza di materie prime. L'assessore regionale alla montagna rivendica però anche i risultati ottenuti per Valtellina e Valchiavenna. Penso alla nuova legge sull'idroelettrico, dichiara una battaglia iniziata quando ero presidente della provincia di Sondrio. Ne vediamo già i primi effetti come il trasferimento dell'energia gratuita a tutte le case di riposo della provincia e l'aumento dei canoni idrici. E ancora l'Olimpiadi Invernali del 2026 prosegue Sertori, un grande evento grazie al quale possiamo costruire un futuro per i nostri figli. Infine i 140 milioni di euro per l'edilizia sanitaria della provincia di Sondrio, una cifra importante, conclude ma certo non risolutiva i tanti problemi da affrontare a partire dalla lista di attesa e il pronto soccorso nonché la carenza di personale medico. Già definite le candidature del Partito Democratico che sostiene la corsa alla presidenza di Pierfrancesco Maiorino in provincia di Sondrio, si presentano Michele Iannotti, segretario provinciale del PD, e Alba Rapella, già sindaco di Morbegno dal 2009 al 2014. Mi metto a disposizione, dichiara Iannotti, con l'entusiasmo, l'impegno e la passione che in questi anni hanno contraddistinto la mia attività politica amministrativa per dare un contributo a cambiare finalmente segno al governo di Regione Lombardia e, conclude l'esponente dei DEM, trasformare in azioni concrete le istanze molto spesso inascoltate di un territorio come quello della provincia di Sondrio.